music news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light blue radio mister mettiamola così oggi un po' una prima delusione oggi avreste meritato sicuramente di vincere siete stati puniti su un unico tiro in porta poi quando si trova un portiere in giornate grazie sappiamo che poi le partite diventa difficile vincerle anche quando si ha una certa predominanza territoriale sì però delusione secondo me in questa fase qui che è una fase di preparazione c'è quando la squadra magari non risponde o quando non fa non prova a fare delle cose io penso che ci aspettavamo un passo avanti di di tenuta di atletica e di mentalità rispetto alla partita di domenica oggi saranno anche delle condizioni ambientali per una certa fase migliori perché c'era più fresco poi diluviato magari c'è stato quel momento lì un po' più difficile da gestire però a quel punto di vista non sono stato deluso anzi ho visto una squadra magari con ancora un'assenza di velocità di trasmissione e con un po' più ancora di ingolfamento davanti nell'ultima prima linea però che ha sempre cercato di fare partita che ha cercato di fare determinate cose ripeto a volte magari con lentezza nel giro però sempre comunque tenendo l'iniziativa contro una squadra che comunque anche presi i singoli soprattutto della prima ora di gioco loro direi di categoria quindi insomma un test molto attendibile rispetto a quello della domenica scorsa quindi deluso no poi se te ti riporta 4, 5, 6 volte i porti da loro para bene poi trovano così nel 7 a prescindere dal fatto che possiamo aver sbagliato qualcosa anche noi calcio meglio che succeda adesso che quando poi contano i punti Ancora una volta abbiamo visto Perez sugli scudi prendere soprattutto nel primo tempo che poi è stata la frazione che ha giocato quasi solamente dato che nell'airpresa gli ha concesso 5 minuti se non erro 10 minuti grazie per la correzione quindi 55 minuti di calcio per lui abbiamo visto essere comunque un po' il faro almeno in questa prima fase terza amichevole contro degli avversari ma anche in quella in famiglia si era visto che probabilmente sarà un po' lui il regista di questa squadra vabbè oggi ho fatto bene Gulo Pedrochi ha giocato il secondo tempo quindi magari nel primo tempo volevo provare di più Poletto che è un giocatore che soprattutto nelle prime giornate avendo fuori anche Pedrochi due giornate per squalifica può essere un giocatore che ci può dare una mano quindi magari si fa anche delle prove in questa fase qua cioè è importante che non ci siano 10 giocatori che pensano di giocare altri 10 che pensano che andranno in panchina devono esserci giocatori che si aspettano di poter giocare che sanno che se fanno bene è più probabile giocare rispetto al fatto che se possano non far bene e quindi sedersi quindi in questa fase qua è normale che ci siano 3, 4, 5 avvicendamenti sulla formazione di base ed è quello che abbiamo fatto anche oggi quindi oggi magari si è notato di più Perez magari la scorsa partita di più Segato di più Pedrocchi ma questo fa parte un po' del momento io direi che abbiamo più di un giocatore che può fare gioco e che può dare qualità alla squadra quindi non è né Perez da solo né Pedrocchi da solo né Segato da solo né i giovani importanti come Poletto di qualità in mezzo al campo può esserci una partita che aspetta più all'uno una partita che aspetta più all'altro quello è per fortuna che ne abbiamo più di uno che può permettersi di dare anche un po' di qualità alla squadra e come l'ha presa il Perez che Nota di Corona era accompagnato dall'ex di Giribaldi che abbiamo visto parlare anche con te prima della gara ma l'ha presa il Perez la pensa come me pensa che la squadra in questo momento qua deve pensare a crescere e non guarda i risultati il Perez come me vuole vincere quando conta quindi era molto tranquillo anche a fine partita anzi ha fatto un paio di battute ai ragazzi ma quando lui è di questo umore è sempre un piacere per tutti grazie mister buon lavoro a voi music news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light blue radio